Ciao! Brava, pimpa! Con il latte cresci sana. Ma che tazza usi? Il che? Questa non va bene. Ma scegli le tazze dell'Unicef per sostenere i diritti dell'infanzia e combattere la mortalità infantile. Corriamo a cercare la serie di tazze con la mia faccia. Sì, con le macchie e tutto il resto. Cercatele 4 e 5 ottobre nelle piazze italiane, eh? Con il tuo sostegno salviamo tutti i bambini. Grazie a tutti.